Non mi sto dimettendo nel modo più assoluto, sto semplicemente comunicando a tempo debito a tutti voi, a tutti i tifosi della nostra città che al termine della fuori stagione sportiva lascerò il mio ruolo di presidente. Lo dico oggi per dare modo, tempo e tutto quello che serve per riorganizzare una nuova governance della WL. Dopo 12 anni Ario Costa lascia la presidenza della WL, l'annuncio ufficiale è arrivato questo pomeriggio nella conferenza stampa indetta nella sala stampa della Vitri Frigo Arena, nessune dimissioni anticipate come era emerso secondo alcune illazioni a mezzo stampa che avevano preceduto questa conferenza stampa, Costa decide di annunciare con abbondante anticipo che a fine giugno non sarà più il presidente ma da qui alla fine di giugno farà tutto il possibile per portare la squadra alla salvezza. Una decisione è quella di lasciare la presidenza che alleggiava nella mente di Costa già dalla scorsa stagione ma che lo stesso presidente ha deciso e diventata estremamente concreta nell'ultimo periodo. La decisione è stata maturata dall'anno scorso, dall'anno scorso dopo i playoff e la vittoria vinta con Milano avevo quasi maturato l'idea di fare basta perché per me avevamo raggiunto il massimo della potenzialità di questa società, di questa squadra in questo momento qua. Poi l'amore che ho per questa squadra, per questa società è tanto che mi ha detto no dai non posso perché ecco perché mi sentivo in quel momento lì che se lasciavo creavo un buco importante e non c'era il tempo necessario per coprirlo perché era maggio, fine maggio e quindi ho detto ok vado avanti però in quest'anno ho sempre giornata dopo giornata maturato il fatto che era arrivato il mio momento. Io voglio arrivare a fine anno, trovare tutti i sistemi immaginabili e possibili per cercare di aiutare la squadra a vincere le partite giuste per poterci salvare. Il tempo c'è, è difficilissimo però il tempo c'è e i punti ci sono a disposizione quindi faremo il possibile. In conferenza stampa Rio Costa ha fatto presente come si farà il possibile ma anche l'impossibile per portare la squadra alla salvezza per non concludere questa lunghissima presidenza con una dolorosa retrocessione e a tal proposito ha stigmatizzato anche il comportamento degli arbitri soprattutto quelli dell'ultima partita di Scafati ritenuta inaccettabile e rispettosa per la VL. Quanto alla decisione di lasciare la presidenza ancora prima che la stampa naturalmente questa prospettiva è stata comunicata ai consorziati e a tutto lo staff un ambiente che ora ha diversi mesi davanti a sé per pensare al successore di Ario Costa ancora tutto da individuare. Ripeto è una decisione che non si torna indietro ma più che altro insisto, ribadisco, lo ribadirò io spero che il consorzio si metta subito al lavoro insieme a sottoscritto se hanno bisogno di qualsiasi tipo di consiglio, consulenza o qualsiasi altra cosa io sono disponibile ma che si mettono subito in moto a trovare un'alternativa non tanto al presidente, alla struttura della squadra, della società, dei vertici per poter cominciare a lavorare da subito su quello che è il futuro. Il futuro è tutto da scrivere, sinceramente non ci sto pensando oggi, non so cosa dire, cosa farò, cosa posso pensare di fare, senza altro 50 anni di pallaganestro non si può così abbandonare del tutto però se ci riesco lo farò.